Il notaio Michele Enrico, ex sindaco di Brindisi ed ex presidente della provincia del capoluogo adriatico, che qualche mese fa aveva anche dato la sua disponibilità a candidarsi come sindaco di Brindisi per le amministrative di quest'anno, ma che poi ha ritirato la sua candidatura, potrebbe essere un membro attivo della prossima amministrazione comunale della città. Questa possibilità è stata illustrata dal candidato sindaco del centro moderato Angela Carluccio in conferenza stampa in mattinata, che ha spiegato che qualora dovesse essere eletta sindaco dopo il balottaggio del 19 giugno, il notaio Michele Enrico entrerà attivamente a far parte dell'amministrazione comunale con il ruolo di supervisore dell'operato dell'amministrazione comunale, soprattutto in merito alla trasparenza. Per il notaio non è previsto un assessorato vero e proprio, ma un ufficio di controllo e legalità. Quando si parla di ambiente, quando si parla di sviluppo economico, la legalità è il primo punto. Poi c'è il problema della giustizia e l'affrontiamo con il welfare e poi c'è il problema dell'equità che dobbiamo affrontare con tutti gli altri procedimenti a lungo termine che poniamo in essere. Quindi non ci interessano i fatti negativi, credo che ci interessino i fatti positivi e la positività la dobbiamo mettere in gioco noi. Nell'occasione è stato anche illustrato un piano strategico e sostenibile per Brindisi che va dal Collegio Tommaseo da utilizzare per la crescita della formazione universitaria alla valorizzazione del porto commerciale, nonché la realizzazione delle bonifiche del sito dell'ex Edipower. Questi sono solo alcuni temi del programma, poi all'interno della conferenza si è anche discusso di quanto accaduto ieri con la conferenza stampa prima indetta dal centro moderato dove la Carluccio era assente e della botta risposta avuto con il candidato del centro-sinistra Nando Marino. Queste le dichiarazioni della Carluccio. Sapete, sono gli ultimi giorni della campagna elettorale. Io ho fatto una campagna elettorale tra la gente nei rioni e quindi ho preso già degli appuntamenti con l'elettorato e non mi sembrava corretto disattenderli anche perché la mia presenza sinceramente non avrebbe tolto e aggiunto nulla. Ho iniziato e continuiamo a fare una campagna elettorale basata sulla legalità e la trasparenza. Siamo stati i primi ad aderire alla piattaforma del Sai Chi Vota, abbiamo fatto delle primarie che sono state caratterizzate proprio anche grazie alla presenza del notaio Enrico da legalità e trasparenza e continuiamo su questa nostra strada. Ritengo che i cittadini debbano sapere chi si mette alla guida della città e credo che anche con la presenza del notaio Enrico saremo in grado di rappresentare la nostra voglia e la nostra forma di governo per questa città.